Sì, adesso la S.P.L.E.N.D.I.D.A.E.D.I.C.L.M. si è separata, anche dal cantante S.A.I., e sembra si stia riavvicinando sempre di più a Flavio Briatore. Entrambi vengono fuori da due relazioni durature ed importantissime. Insieme stanno cercando di recuperare, forse, il tempo perduto e senza dubbio si stanno godendo insieme il frutto del loro amore, la loro giovane figlia. Sembra che Lenny abbia ereditato gli occhi vivaci del padre, e la bellezza della madre. Insieme si stanno divertendo, tanto che il manager Flavio Briatore ha condiviso anche qualche foto sui social, dove si intravede la ragazza. Visto che al momento, sia E.D.I.C. e Flavio Briatore, sono single e insieme hanno condiviso già una relazione, e una figlia si ipotizza un ritorno di fiamma, che riunirebbe la famiglia che, in realtà, non hanno mai avuto insieme. Foto credit Instagram. 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 Grazie a tutti.